Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Siglia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Tyler Hudley nasce il 16 dicembre del 1993 a Port St. Lucie, in Florida, dove vive insieme ai suoi genitori, Blake e Mary Jew, e con suo fratello, Ryan, che ha sei anni in più di lui. Tyler è nato prematuro e trascorre il primo mese di vita in un'incubatrice. I suoi genitori chiaramente sono molto spaventati. Mary Jew fa l'insegnante e ogni volta che deve lasciare Tyler per andare al lavoro, prova un senso di colpa enorme. Sta davvero male per le condizioni del figlioletto. Crescendo Tyler sviluppa un forte legame proprio con sua mamma. Nel periodo dell'infanzia è tanto attaccato a lei, hanno un rapporto speciale, anche se il piccolo adora pure suo padre. Blake, suo padre, spesso lavora fino a tardi e quando accade Tyler rimane sveglio ad aspettarlo, altrimenti non riesce ad addormentarsi. Vuole essere certo che suo padre sia al sicuro, vuole vedere con i propri occhi che sta bene. Quando invece Blake riesce a rientrare nel pomeriggio, lui e Tyler giocano spesso basket o escono a mangiare un gelato. Insomma, sono davvero molto uniti. Tyler però fin da piccolo è un soggetto estremamente ansioso e subisce questa condizione quotidianamente. Come sua madre, anche lui è incline a provare il senso di colpa. In un'occasione mamma e figlio litigano. Il ragazzino le dice stai zitta, ma poco dopo scoppia in lacrime. Lo assale il senso di colpa per aver trattato male sua madre, che lo ha sempre supportato. Crescendo tra gli 8 e i 10 anni, Tyler mostra i sintomi di una lieve depressione. Sua mamma si preoccupa tantissimo perché anche lei ha sofferto di una depressione cronica lieve per gran parte della sua vita e chiaramente non vuole che suo figlio sperimenti lo stesso disagio. Mary Jo dunque non sta con le mani in mano, non finge che Tyler non abbia problemi, come purtroppo accade in tante famiglie. Piuttosto si attiva per aiutare suo figlio ad alleviare la depressione, rivolgendosi a uno psicologo. L'aspetto più controverso di questa storia è che a Tyler, un bambino di appena 10 anni, vengono già prescritti degli antidepressivi. Inoltre il ragazzino soffre sia di acne che per il proprio peso, fattori che lo portano a essere ancora più ansioso, impacciato, a non sviluppare alcuna autostima. Le persone attorno a lui lo hanno etichettato come quello cicciottello. Dunque fin dalla teneretà Tyler entra in conflitto con il suo corpo. Per cercare di migliorare la sua autostima e aiutarlo a combattere l'acne, il medico gli prescrive l'acutein, un farmaco che ha come principio attivo l'isotretinoina, ma che può presentare diversi effetti collaterali, tra cui pensieri suicidari. Quindi a un soggetto molto giovane e già depresso viene prescritto un farmaco che potrebbe alimentare il suo malessere psichico. E questo onestamente mi rende perplessa. Come se non bastasse, Tyler soffre pure di disfunzioni alla tiroide e inizia ad assumere anche gli ormoni della crescita. La sua terapia va attentamente monitorata, serve ad accelerare sensibilmente la crescita staturale per consentire il raggiungimento di una statura normale. Tuttavia anche questo trattamento può scatenare degli effetti collaterali non di poco conto, dolori articolari, disturbi nervosi e modificazioni del metabolismo. Il piccolo Tyler si ritrova ad assumere davvero tanti farmaci per un bambino della sua età. Onestamente non credo che il medico che glieli ha prescritti abbia preso una decisione saggia, considerando cosa arriverà a fare. Infatti proprio a causa delle terapie farmacologiche il comportamento di Tyler inizia a mutare e il ragazzo diventa sempre più attaccabrighe, sia a scuola che a casa. Ad esempio scrive delle oscenità con i penarelli nel bagno della scuola o sulle automobili, oppure importuna i suoi vicini di casa, lancia dei sassi contro le loro finestre, ruba i vestiti che hanno steso ad asciugare in giardino o addirittura le loro decorazioni natalizie da esterni. La personalità di Tyler, prima così pacato e premuroso, cambia drasticamente. Non aveva mai causato problemi ai suoi genitori, poi all'improvviso succede esattamente l'opposto e questo li porta a litigare come mai prima d'ora. Spesso sono gli adolescenti ad attraversare questa fase, diventano ribelli, non vogliono più sottostare alle regole impartite dalla famiglia, ma è Tyler a 12 anni soltanto. In un'occasione dopo un rimprovero dei genitori e un conseguente litigio, Tyler esce di casa e corre dal suo amico per sfogarsi. Gli racconta che mamma e papà non lo capiscono, non lo supportano e l'amichetto lo asseconda, è vero, conferma Mary Jo e Blake, lo riprendono sempre, sono molto severi. A questo punto il dodicenne Tyler dice al suo amico, voglio uccidere i miei genitori. Non dimostra alcun rimorso anche solo per aver pensato e detto una cosa del genere, anzi prevede che, quando sarà più grande, commetterà questo terribile atto. Questa affermazione è così lontana dal Tyler che era scoppiato a piangere per il senso di colpa quando aveva detto a sua madre di stare zitta durante una discussione. Il tempo passa, ma il comportamento di Tyler non fa che peggiorare in quanto scopre l'alcol e le sostanze e, ahimè, inizia a farne uso. Ha appena 13 anni quando comincia a bere tutte le bebite alcoliche che riesce a trovare. Poi, all'età di 15 anni, inizia a fumare. E non intendo sigarette. Poco dopo sviluppa l'abitudine a curare l'ansia con l'oxanax e l'ossicodone, che ovviamente non sono prescritti da nessun medico. Tyler sceglie di assumerli senza controllo e non sappiamo in che quantità, ma non seguiva alcuna ricetta, non aveva i riferimenti della posologia. Il passo successivo per Tyler è provare tutte le sostanze allucinogene possibili. Assume ancora antidepressivi e questo cocktail di sostanze non lo aiuta affatto. Il comportamento problematico di Tyler, come immaginerete, persiste negli anni dell'adolescenza e i suoi genitori a questo punto non riescono più a gestirlo. Mary Jo diventa arrendevole, nega a se stessa che ci sia qualcosa che non va. Un giorno un vicino di casa le riferisce che ha visto Tyler assumere sostanze insieme agli amici nel parco, ma Mary Jo non lo accetta. Risponde al vicino che deve aver preso un abbaglio perché il suo Tyler mai farebbe una cosa del genere. Tuttavia la donna non può fare finta di niente a lungo, è evidente che Tyler sta attraversando un periodo buio e urge intervenire. Il ragazzo ha problemi di salute mentale, continua a non sentirsi a proprio agio con il suo corpo, pensa di essere troppo basso e visibilmente in sovrappeso, tanto che all'età di 16 anni inizia anche a soffrire di buonia. Riprende ad assumere l'ormone della crescita, il GH, che è considerato dagli atleti la molecola ideale per aumentare la massa muscolare e le performance. Tuttavia anche questo farmaco espone a numerosi effetti collaterali che impattano sia sulla salute mentale che su quella fisica. L'insorgenza di stati depressivi, maggior rischio di ipertensione arteriosa, di sviluppare diabete vellito, artrite e tumori. Il comportamento di Tyler non migliora affatto. La scuola continua a cacciarsi nei guai, disturba costantemente la classe durante le lezioni, urla senza una ragione e in un'occasione imita le movenze di una mucca. Allora, chiariamo, scommetto che in tanti abbiamo avuto un compagno di classe burlone, uno con la battuta sempre pronta per divertire i compagni, ma Tyler impedisce il regolare svolgimento delle lezioni e manda in crisi gli insegnanti. Vuole attirare l'attenzione, ma si spinge ancora oltre. Come se tutto questo non bastasse, sviluppa un malsano interesse per il fuoco. A Tyler soddisfa a piccare incendi. In un'occasione trova un divano abbandonato, lo trascina in mezzo al bosco, lo inzuppa di benzina e gli dà fuoco. Come sapete, è un gesto del tutto irresponsabile cospargere della benzina in una zona boscosa. Infatti il fuoco non si limita a bruciare il divano, ma inizia a diffondersi tra gli alberi. È necessario chiamare i vigili del fuoco per domare l'incendio appiccato da Tyler, che causa danni non insignificanti, ma lui se la cava con un semplice avvertimento, in quanto è la sua prima infrazione che viene denunciata. Dopo questo evento, la madre di Tyler si mette in testa di riportare il figlio sulla buona strada. Comincia banalmente con l'osservarlo più attentamente, chiedendogli spesso se vada tutto bene. Cosa stia facendo? Con chi esca? Quando il ragazzo fa qualcosa di sbagliato, Mary Jo lo punisce come giusto che sia. Gli sequestra il telefono per un po' di tempo, gli impedisce di guidare la macchina e di guardare la televisione. Insomma, diciamolo chiaramente, non abbiamo davanti una madre che castiga il figlio in modo sconsiderato con punizioni dure e aggressive, come vi ho raccontato in tanti altri casi. Mary Jo pone dei limiti a Tyler, se infrange delle regole che esigono rispetto, lo priva degli oggetti a cui lui tiene, proprio per spronarlo a comportarsi bene. Ma Tyler è convinto che queste punizioni siano irragionevoli. Così si ribella e la madre è costretta a punirlo di nuovo, in un circolo infinito. Ora Mary Jo non gliene fa passare liscia neanche una. Giorno dopo giorno il ragazzo sviluppa un forte risentimento verso i suoi genitori. Arriviamo all'aprile del 2011, Tyler ha 17 anni e litiga pesantemente con un amico. I due iniziano a picchiarsi selvaggiamente, tanto che Tyler viene arrestato per aggressione aggravata. Viene condannato a una settimana di reclusione in carcere e due settimane agli arresti domiciliari. Mary Jo rincara la pena confiscandogli il cellulare e la televisione della sua cameretta. E ovviamente Tyler è infuriato con i suoi genitori, perché si stanno intromettendo nella sua vita. Non capisce che è normale, lui ha soltanto 17 anni, vive con sua mamma e suo papà, sono loro che provvedono ai suoi bisogni. Quindi è logico che intervengano specialmente dopo che Tyler si è guadagnato una settimana in prigione e due agli arresti domiciliari. In ogni caso le conseguenze sono scoraggianti, la rabbia che Tyler nutre nei confronti dei genitori si sta gonfiando sempre di più. Intanto continua ad assumere numerosi farmaci, prescritti o meno, e a utilizzare sostanze. Il suo profondo risentimento si agita dentro di lui come il cocktail di medicine. E in questo periodo il ragazzo sviluppa pensieri omicidiari. Come ricorderete Tyler aveva già espresso il desiderio di uccidere i suoi genitori, ma era stato un caso isolato. Aveva solo 12 anni e non credeva davvero in quel che diceva. Ora, però, questi pensieri prendono il sopravvento, diventando terribilmente seri. Tyler vuole togliere di mezzo coloro che l'hanno messo al mondo. All'inizio si tratta di pensieri sporadici, da cui poi si allontana, spaventato. Ma queste intenzioni oscure, ahimè, tornano a bussare con prepotenza alle porte della sua mente e non riesce a sbatterle fuori. Passano altri tre mesi e arriviamo a luglio del 2011. Il fratello maggiore di Tyler sta frequentando il college, dunque si è trasferito. In casa ora abitano solo Tyler e i genitori che stanno cercando di farlo aderire a un programma per curare l'abuso di sostanze. Cosa che il ragazzo ovviamente contesta. Continua a essere convinto che loro non debbano intromettersi nella sua vita. E i pensieri omicidiari diventano quotidiani. Tyler vuole uccidere i suoi genitori e neanche riesce a tenere questi macabri pensieri per sé. Ne parla apertamente con gli amici, incurante, che avvertono il suo odio profondo. Il ragazzo non ha ancora accesso al telefono, quindi ricorre a Facebook Messenger per comunicare con gli amici. E ora vi riporto una conversazione davvero allarmante con uno di loro. Tyler scrive, sì, ci vediamo martedì prossimo per lo show completo, potrei ucciderli. L'amico risponde, oh mio Dio, non fare niente o finirà in prigione. Poco dopo questo scambio di messaggi, Tyler va a casa di un altro amico e i due si intrattengono con un videogioco. In teoria il ragazzo è ancora in punizione, infatti non ha riavuto indietro il cellulare. Ma gli è consentito di passare un po' di tempo con gli amici. Direi quindi che i suoi genitori non sono stati poi così severi. In ogni caso, mentre sta giocando al videogame, Tyler si blocca di colpo e dice all'amico, Voglio uccidere i miei genitori e poi fare una grande festa. Aggiunge che nessuno ha mai fatto una cosa simile, cioè commettere un delitto e dare una festa con i cadaveri delle vittime ancora in casa. L'amico ride, non crede che Tyler sia dicendo sul serio, ma purtroppo il ragazzo non sta affatto scherzando. È in questo preciso istante che decide di ammazzare davvero i propri genitori. La sera del 15 luglio del 2011, Mary Jo e Blake vanno in camera da letto per dormire. Subito dopo il ragazzo esce di casa e recupera un paio di cesoie da giardino, poi si dirige verso la stanza dei genitori. Entra, si avvicina al letto e punta le cesoie contro le loro teste, ma infine rinuncia a colpirli. Chiariamo non ha alcun ripensamento o rimorso, però capisce che non è ancora il momento di agire. Quindi esce dalla camera e va a dormire. Il giorno successivo, ovvero il 16 luglio, Tyler riceve un messaggio dall'amico con cui stava giocando ai videogiochi, il quale gli chiede, allora l'hai fatto? E Tyler risponde, no, ma lo farò e poi darò una festa. L'amico lo asseconda e gli risponde, sì, festa! Io mi chiedo come questo amico non si sia spaventato. Se un'amica o un amico venisse da me e mi dicesse, voglio uccidere i miei genitori e poi dare una grande festa, La mia risposta non sarebbe esattamente, sì, festa, ma piuttosto che cazzo stai dicendo? Però questa, insomma, questo è il modo in cui si sono susseguiti i fatti, quindi proseguiamo. Dopodiché Tyler trascorre tutto il giorno proprio a organizzare il party. Alle 13.15 posta su Facebook uno stato con scritto, festa nella mia tana stasera? Ora, forse. Il ragazzo passa le ore seguenti a preparare l'omicidio dei suoi genitori, sottrae loro le carte di credito e i telefoni per impedire che possano chiedere aiuto quando li attaccherà. Poi assume ben tre pilole che provocano effetti allucinogeni e verso le 17 del pomeriggio entra nel garage e afferra un martello da carpentiere. Si recchia in soggiorno dove sua madre sta lavorando al computer e si posiziona dietro di lei, riflettendo su come colpirla. Mary Jo non ha idea a chi Tyler se ne sia lì, in agguato. Lui rimane a riflettere per ben cinque minuti, un lungo lasso di tempo in cui avrebbe potuto ripensarci. Ma stavolta non lo fa. Stringe il martello da carpentiere e la colpisce in testa. Mary Jo riesce a urlare e l'ultima parola che pronuncia è «perché?». Tyler la ignora e continua a colpirla. Le sferra ben 36 colpi. Successivamente l'autopsia rivelerà che la donna era viva durante tutto l'arco della feroce aggressione. Questo vuol dire che ha sentito il dolore lancinante di ogni singola martellata. Il padre di Tyler, Blake, è in un'altra stanza e sente chiaramente che qualcosa non va. Ma non fa in tempo a intervenire perché l'attacco del figlio è breve e frenetico. Quando Blake raggiunge il salotto è già troppo tardi per Mary Jo. Sua moglie è accasciata senza vita e Tyler ha in mano un martello insanguinato. Anche Blake riesce a dire soltanto la stessa disperata parola pronunciata dalla moglie. Ovvero «perché?». Tyler lo guarda e risponde «perché no?». Poi inizia a colpire suo padre scagliando nel suo attacco 39 martellate. Anche Blake muore per le ferite riportate ma è vigile durante tutta l'aggressione. Tyler porta a termine il duplice omicidio in pochissimo tempo ma la modalità in cui ha ucciso i suoi genitori suggerisce che provasse un'immensa rabbia repressa. Questo non è un caso di facile comprensione. Penso e ripenso. Perché Tyler nutriva così tanto odio nei confronti dei suoi genitori? Perché è arrivato ad ammazzarli e in maniera così orribile? Insomma Mary Jo e Blake erano due bravi genitori, non gli avevano mai fatto mancare nulla, erano persone amorevoli. Dopo averli uccisi Tyler va a prendere degli asciugamani e gliele avvolge intorno alla testa per coprire i loro volti. Poi li trascina nella loro camera da letto, li sistema uno a fianco all'altro sul pavimento, recupera il martello e lo posiziona in mezzo ai due corpi senza vita. Successivamente va in giro per casa e trascina scrivanie, tavoli, sedia, ferra lenzuola e vestiti per disporli sopra i cadaveri. Il prossimo passo di Tyler è quello di pulire le macchie di sangue sparse in casa. Fa del suo meglio ma l'operazione non gli riesce bene. Infine va a farsi una doccia. Appena esce dalla doccia Tyler guarda la sua immagine riflessa nello specchio del bagno, poi inizia a ridere istericamente. Alle 20 e 15 il ragazzo pubblica un post su Facebook con scritto «C'è una festa a casa mia». Un amico risponde chiedendogli «E se i tuoi genitori tornassero a casa?» Tyler ribatte «Credimi, non torneranno». A questo punto il ragazzo si prepara per la sua grande festa, prende dei soldi dai portafogli dei genitori e li consegna a un suo amico 21enne affinché vada a comprare dell'alcol. Verso le 21 la gente comincia ad arrivare a casa di Tyler, finché alla festa non partecipano circa un centinaio di persone. Tuttavia, come spesso accade in queste circostanze, la maggior parte degli ospiti neanche sa chi sia il padrone di casa, quindi non si cura di mantenere l'ambiente pulito o in ordine. Il risultato è che l'abitazione viene letteralmente devastata. Gli invitati lasciano una miriade di bottiglie di birra vuote sul pavimento, spiengano le sigarette sui tappeti o sui muri, aprono tutti i barattoli presenti in cucina, lanciano oggetti per aria, addirittura dei vasi. La festa prosegue per qualche ora, gli ospiti bevono sempre di più, si ubriacano e fanno chiasso. Disturbando i vicini. Alcuni ragazzi spostano il tavolo da pranzo nel soggiorno dove si mettono a giocare a beer pong. La pallina, quando non c'entra il bicchiere, ricade a terra, finendo più volte su una macchia marrone e appiccicosa. È chiaro che si tratta del sangue versato dalle vittime di Tyler, che si diffonde sulla pallina. Ogni volta qualcuno la raccoglie dal pavimento e se la strofina sulla maglietta per ripulirla e rincominciare a giocare. La pallina sforca di sangue finisce anche nei bicchieri di birra che la gente beve, ma Tyler non se ne cura e io ho i brividi. Insomma, il ragazzo non sembra interessato a ciò che sta succedendo, si preoccupa soltanto del baccano. Quando gli invitati mettono la musica ad alto volume, lui va ad abbassarlo perché teme che i vicini chiamino la polizia e non vuole di certo che gli agenti entrino in casa. Durante tutta la festa, gli invitati non hanno la minima idea di cosa si nasconde in quella camera da letto. Alcune persone provano a entrare, ma la porta è chiusa a chiave. Però qualcosa va storto. La gente inizia a lamentarsi, sostenendo di sentire un odore disgustoso. Gli ospiti, per l'esattezza, lo descrivono come un odore di morte, ma non pensano davvero che in casa ci siano due cadaveri. Le persone che conoscono Tyler gli domandano più volte dove siano i suoi genitori. Temono che tornino a casa all'improvviso e si ritrovino davanti agli occhi quello scenario di devastazione. Tyler cambia versione a seconda di chi gli pone la domanda. Ad alcuni dice che i suoi genitori non sono in città, anche se entrambe le loro auto sono parcheggiate davanti alla casa. Ad altri, che però non lo conoscevano già perché probabilmente frequentano un'altra scuola, racconta che suo padre è morto. Loro chiaramente pensano che l'uomo sia deceduto tempo prima, non che suo figlio lo abbia ucciso proprio quel pomeriggio. Le ore passano, Tyler cerca di custodire il suo orribile segreto, ma non riesce a trattenersi dal raccontarlo al suo migliore amico, Michael. I due si conoscono da quando hanno otto anni. Tyler prende in disparte Michael e glielo confessa. Gli dice, ho ucciso i miei genitori. Michael ovviamente pensa che Tyler stia scherzando, ma poi quest'ultimo gli dice di seguirlo. Lo porta all'esterno e gli mostra le auto di entrambi i coniugi, ancora parcheggiate davanti a casa, per poi domandargli perché dovrebbero essere andati via. Le eromacchine sono qui. Tyler va ancora oltre, riporta Michael in casa e gli indica tutte le macchie marroni appiccicose presenti sul pavimento. Infine lo conduce nella camera da letto dei suoi genitori. Michael intravede solo un sacco di roba accatastata, ma poi nota che dal mucchio sporge una gamba pallida. Si rende conto che Tyler sta dicendo la verità ed è quasi sotto shock, non sa esattamente cosa fare, rimane alla festa ancora per qualche ora. Ma non ribella nulla a nessuno. Ma la polizia arriva comunque a bussare a casa di Tyler perché a un vicino l'ha chiamata denunciando il baccano. Tyler davanti alla porta si scusa con gli agenti e questi ultimi gli intimano di abbassare il volume della musica. Poi se ne vanno. Il duplice omicidio non è ancora stato scoperto. Poco dopo Michael si fa un selfie con Tyler, poi lo saluta e lascia la festa, ma continua a pensare alla ghiacciante visione che il suo migliore amico gli ha mostrato. Alla fine decide di fare la cosa giusta, contattare la polizia e denunciare l'omicidio. Il selfie dei due ragazzi diventerà il quanto famoso. Michael ammetterà di averlo fatto per incorniciare l'ultimo momento insieme al suo amico da libero perché sapeva che o lui stesso o qualcun altro l'avrebbe presto denunciato. Sono circa le 4.40 del mattino, la festa non è ancora finita, ma molti ospiti stanno iniziando ad andare via. Tyler allora si connette su Facebook e scrive Festa casa mia! Di nuovo! A distanza di pochi minuti dalla pubblicazione del post, la polizia irrompe nell'abitazione e va spedita nella camera da letto di Mary Jo e Blake. Mentre Tyler ripete angosciato Non entrate lì! Non potete entrare! La polizia trova così i corpi senza vita dei due coniugi. Lei aveva 47 anni, lui 54. Tyler viene arrestato, chiaramente, e preso in custodia. Il ragazzo teneva tanto a fare quella festa, ma alla fine è stata la polizia a fargliela. Dopo il suo arresto il ragazzo viene subito accusato di due capi d'accusa per omicidio di primo grado. Tyler si dichiara colpevole, quindi non affronta alcun processo. Il 20 marzo 2014 viene condannato all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. In appello la sua condanna viene cambiata in ergastolo con possibilità di libertà condizionale. Tyler dirà agli psicologi che era arrabbiato per tutto quello che gli stava accadendo e che sentiva che la morte dei genitori gli avrebbe portato sollievo. Detto questo, ragazzi e ragazzi, io ho finito di parlare in questo video. Io, onestamente, quando sento queste storie rimango sempre un po' senza parole. Abbiamo anche tanti esempi di casi italiani, eh? Assolutamente. Moventi diversi, ma testo crimine. Onestamente io credo che questo ragazzo abbia commesso quello che ha commesso anche per l'assunzione sconsiderata di farmaci e sostanze. Ne sono proprio convinta perché la sua personalità è proprio cambiata radicalmente da quando ha iniziato ad assumere dei farmaci. Alcuni inizialmente sotto il controllo medico e poi dopo senza neanche il controllo medico. Cioè Tyler ha iniziato semplicemente ad assumere altri farmaci per i fatti suoi. E credo che questo abbia portato a quello che poi è accaduto in questo caso. Quindi all'omicidio dei suoi genitori. Che detto sinceramente non l'hanno neanche punito poi così tanto severamente, a mio avviso. Voi che cosa ne pensate di questo caso? Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. Io, come al solito, vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi. Continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi. E fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! 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 Grazie a tutti.